Amo, ho già pensato a una cosa oggi, mi aiuti a preparare il gelato a cioccolato che a te ti piace tanto. Finimmola questa storia che tu sei cucinato, che è troppo faticoso, che ti ha già ricevuto prima che va... Io sono pronta. E io vado a sciogliere la cioccolata nel forno a microonde o in un pendolino a fiamma bassa. Ma questo basta? Sì, sì. Ti piace, eh? Sì. Forse abbiamo trovato un modo che adesso ha fatto questo. Tu mantieni, eh? Io metto una guantiera con un voglio di carta porno e ora facciamo la base che stiamo facendo con i bombonieri, i bombon al cioccolato. Sì. Brava. Ecco qua. Questa è la base. Un po' distanziata. Un po' distanziata. Il prodotto diviso due. Lo puoi lasciare, grazie. Grazie. Comando precisa, eh? Non pare come fai tu abitualmente. Ecco, già carito, già mi è venuta l'emozione, si allargava la pallina. Vabbè, noi siamo artisti, comunque. Che so, io vado a mettere questo in congelatore. Vado a diminuire. Ho sentito un rumore di plastica. Non so se lo io. Mettiamo un cucchiaino d'olio, così rendiamo più fluido la cioccolata, eh? Io continuo a girare. Tu gira, gira. Bravo, bravo. Dobbiamo lavorare velocemente, ma fai palline, noi dobbiamo mettere qua sopra, perché se no il gelato si scioglie, eh? Quindi, ma fa in pressa, in pressa. Però, pure che hai comprato questo gelato è buono, eh? Non lo hai detto tu questo? Mmmmm. Mmmmm. C'è un biglio, ci fai il cuore. Ehm. 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 È buono. Ehm. 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 un chicchetto di uvetta. Ehm. 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 questo venne più scientifico, venne più elegante, come ti piace a te che sei nobile. Poi ci vuolimole, in eccesso ci vuolimole, ci vuolimole assa. Questo qua, per esempio. Ci vuolimole assa. Cammarudo ci vuolimole assa. Vabbè, lasciamo scegliere. Poi passiamo pure questi un pò in un gelatore. Poi ci mettiamo il gelatore, poi ci mettiamo la cioccolata. Eh? Eh? Guarda, guarda come lo faccio con la rebbe. Ehm. Bene, guarda, guarda. Guarda. Guarda come sono brava. Guarda. Guarda. Vediamo. Guarda. Già sono pronti. Guarda come sono carini. Sono carini. E tu te lo puoi pure già mangiare. Sono pure carini perché sono piccolati. Vedi? Se li facciamo stare un po' di tempi in più, non? Come a te che subito te vuoi mangiare. Vogliamo vedere come sono pronti. Ti sento scrucchiare. Ma quando sei cantato? Ma quando sei cantato? Un germani questo per stasera, mi raccomando. Stasera. Shi.